Per completare l'esperienza nelle gambe di partenza, partiti all'interno Golden Acclamation, Bisego, Willard Padley, nessuno che è convinto di andare in vantaggio Blue Emperor che si abriva a quarta, è il gioco forza Bisego che va in vantaggio. In seconda posizione Willard Padley all'interno del terzo Golden Acclamation, quindi in due da Gisego, Willard Padley, Blue Emperor, Gemma dell'Elmo e per ultima, Ultima e First Cry. Sulla prima curva si deve in vantaggio nei confronti di Willard Padley, in terza posizione rimane Golden Acclamation in giù a blu, poi Blue Emperor, Gemma dell'Elmo e First Cry. Il suo stesso affronta quasi in filo indiano a reclinio di fronte con Bisego a graduare, nessuno che lo disturba, Willard Padley che rimane alla coda del leader precedendo Golden Acclamation che adesso sarà sotto per linea interna, quindi Blue Emperor e First Cry che prova la rimonta per linea interna su Gemma dell'Elmo. La piegata finale, vede Willard Padley all'attacco del leader Bisego che prova la difesa, quindi Blue Emperor che si presenta in forza corsia rimane appostata all'interno di Golden Acclamation che procede a First Cry e Giamma dell'Elmo, addirittura da Rubicon, Blue Emperor Padley che va all'attacco di Bisego, Golden Acclamation che sposta all'esterno dei due e scatta, Blue Emperor che passa, Golden Acclamation che lo attacca, si difende, Blue Emperor, insiste Golden Acclamation, Blue Emperor che respinge Golden Acclamation.